Buongiorno, benvenuti a Di Mattina. Il 25 marzo del 1995 nasceva Libera. Libera che oggi è un coordinamento di oltre 1.600 associazioni, gruppi, realtà di base, un movimento di popolo fatto di tante generazioni che si riconoscono nella lotta per la legalità e contro la mafia. Allora contro le mafie, perché è giusto declinare questa parola al plurale. Noi siamo molto contenti in questo giorno di avere nel nostro studio Don Luigi Sciotti, che di Libera è il presidente e il fondatore. Benvenuto alla News24. Buongiorno a tutti e grazie. Le chiederei intanto il ricordo di quel giorno, di questo passo che poi ha avviato un percorso che anche questo weekend ha riempito la piazza di Bologna come tante altre negli anni passati. Libera nel pensiero nasce l'indomani delle stragi di Capace e di Vieta Meglio. Un anno dopo nasce la rivista col gruppo Abele Narcomafie. Attorno alla Comafie cominciano a coagularsi alcune realtà e alcuni gruppi. Nel luglio del 1994 si costituisce proprio il primo percorso, però l'atto ufficiale viene il 25 marzo del 1995. Da allora quei pochi gruppi che c'erano all'inizio sono fortemente cresciuti e da lì sono partite alcune proposte molto chiare. La prima è certamente la vicinanza ai familiari delle vittime innocenti di mafia e da lì la giornata della memoria e dell'impegno, ma soprattutto dell'impegno per fare una memoria seria, perché sennò diventano solo celebrazione degli eventi e della retorica della memoria. La vicinanza ai familiari quindi non c'era un registro, non c'era niente, lo si sta costruendo giorno per giorno. Il secondo obiettivo è stato per noi importante, la cultura, perché è la cultura che dà la sveglia alle coscienze. La scuola, quei percorsi, non tanto le conferenzine, ma proprio dei progetti, dei percorsi costruiti con gli insegnanti, con i ragazzi, con le università. Oggi l'85% delle facoltà universitarie hanno firmato dei protocolli per portare al loro interno dei percorsi di conoscenza, di consapevolezza. Il terzo obiettivo è stato quel milione di firme raccolto l'anno dopo, nel 1996, perché il sogno di Piola Torre diventasse un po' realtà. Lui sognava quel 416 bis, reati di stampo mafioso, bene, non l'ha visto il suo sogno, l'hanno ucciso prima, ma poi c'era proprio sottrarre i patrimoni alle mafie. Quella parte non era sostanzialmente stata poi applicata e per noi un milione di firme per chiedere al Parlamento la legge, confiscare e l'uso sociale di questi beni. Sono passati 20 anni, molte cose sono cambiate, le mafie continuano, pur con le loro trasformazioni, dando continuità alla loro presenza e noi dobbiamo accelerare oggi di più quello che si sta facendo, perché le mafie sono tornate forti. Libera ha svolto e continua a svolgere un'attività importantissima, un'attività che ha coinvolto, come diceva giustamente Don Ciotti, centinaia di migliaia di persone, moltissime associazioni, che ha svolto un'opera culturale, di educazione politica, anche non soltanto sociale, e credo che questo sia un contributo inestimabile. Nessun altro gruppo, nessun'altra associazione, tanto meno i partiti politici, hanno svolto quest'opera che è assolutamente necessaria. Soprattutto è importante sottolineare che sono 20 anni di attività e quindi che c'è una continuità. È importante sottolineare che hanno trovato i punti giusti sui quali premere, poi di nuovo ha ragione Don Ciotti, di tanto in tanto i politici fanno compromessi fra di loro e anche probabilmente con qualcuno con i quali i compromessi non dovrebbero essere fatti mai, però quest'opera di libera è cruciale. Dopo 20 anni uno prende coscienza dei suoi limiti, libera deve prendere coscienza dei suoi limiti, dei suoi errori, mette insieme tutto un mondo di associazioni così diverse, non è semplice, non è facile, ma anche le positività, il mondo della scuola, questi ragazzi, questa è la prima generazione che vive l'angoscia del futuro. Quando incontri i ragazzi vivono l'angoscia di non avere una prospettiva davanti, sono disorientati, ma se tu gli offri delle cose concrete si appassionano, sono migliaia i ragazzi che in Italia si sono messi in gioco per la giustizia, per il cambiamento, allora evitiamo la corruzione più pericolosa che è la corruzione della speranza, cioè prenderli in giro, illuderli, promettere cose che non vengono fatte. Poi lotta alla mafia vuol dire lavoro, vuol dire casa, politiche sociali, sostegno alla famiglia. Signori, l'Italia ha 6 milioni di analfabeti con analfabetismo di ritorno e siamo gli ultimi posti in Europa per la dispersione scolastica. Una domanda in più, dobbiamo farcela anche rispetto alla cultura e al ruolo della scuola, non dimenticando che qui le cose positive che ci sono. Le mafie oggi sono corruzione, non sono due temi separati, sono corruzione ed è preoccupante, allarmante che le autorità pubbliche, dal governo alle autorità regionali, ai sindaci, per esempio non abbiano colto il momento in cui Papa Francesco ha scomunicato la mafia. Questo è il primo Papa che non dice soltanto ai mafiosi pentitivi, andrete all'inferno, siete incompatibili con il Vangelo, cosa che aveva detto anche Benedetto XVI a Napoli, ricordo la grande invocazione profetica di Giovanni Paolo II ad Agrigento. Questo ha scomunicato la mafia. Libera è veramente un coordinamento di associazioni, io faccio la mia parte, altri stanno veramente impegnandosi e questa è la forza, riuscire a mettere insieme associazioni, gruppi, movimenti. Mi auguro, guardando in avanti, che ci sia sempre molta umiltà da parte anche delle associazioni, perché nessuno si deve sentire a posto e arrivato. Oggi più che mai bisogna fare uno scatto di più insieme tutti, perché, ripeto, non è possibile continuare a parlare di mafia per secoli. 50 anni fa è nato il gruppo, il gruppo Abele, che è un po' la mia storia, la mia vita, i poveri, gli ultimi, con chi fa più fatica, con i quali continua a vivere, se no diventiamo poi astratti, no? Se perdiamo questo faccia a faccia con le persone. Ebbè, a volte ci sono i momenti anche di fatica, di smarrimento, di sofferenza. La più grande sofferenza che io provo è vedere realtà che si mascono dietro la parola legalità. La più grande sofferenza è vedere le politiche che non vengono fatte come dovrebbero essere fatte. La più grande sofferenza è vedere quelli che si nascondono dietro la parola antimafia nel nostro paese. Le ingiurie, le manovre di sottobanco. E la paura personale sua? Ebbè, certo, dopo le minacce di Totorina, la prima parte è quella che è stata conosciuta. C'è una seconda parte che non è grazie a Dio conosciuta, la quale dice, beh, questo qui facciamogli fare la fine. Totorina, gli inquirenti dicono, beh, è lì, però parla con dei linguaggi che vengono recepiti chiaramente anche all'esterno. Uno si pone le domande, ma io credo che si viena andare oltre. Per me è questo noi. Uno può eliminare una persona se vuole, ma non può eliminare ormai una coscienza di migliaia di ragazzi, di migliaia di persone. Ripeto, con tutti i limiti, perché poi sono piccole cose rispetto all'immensità dei problemi, ma non può eliminare, nessuno può eliminare ormai un movimento che si è messo in cammino per dire basta, per dire basta. Grazie. Grazie.